Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è venerdì 13 agosto 2010 e vedete qua che bella signora? Questa bella signora, veramente bella, si chiama Rosa Giannetta Alberoni. Il titolo del video è Rosa Giannetta Alberoni perché, 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 perché Rosa Giannetta Alberoni è l'autrice di un libro, dopo ve lo faccio vedere il libro, è un libro intitolato Il Dio di Michelangelo e la barba di Darwin. Lei dice che questo libro, che è contro l'evoluzionismo e a favore del creazionismo, lo dovrebbero leggere tutti, 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 tutti gli insegnanti, già dalle scuole materne, mi pare che abbia detto gli insegnanti, non so se gli insegnanti, i genitori o i bambini, dalle scuole materne, su, 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 scuole elementari, scuole medie inferiori, scuole medie superiori, in modo che non vengano condizionati da Darwin, capito, da Darwin. E allora, allora, cari amici, eccolo qua, il libro eccolo qua. Poi se voi, cari amici, mi direte qual è la tv che ha trasmesso questo filmato, insomma la tv che ha trasmesso, vedete che lei presenta il suo libro? Però, lei, nel libro, nel libro, questa bella signora, non ci ha messo il suo nome di nascita, che sarebbe Rosa Giannetta, che poi si è sposata con Francesco Alberoni. Sul libro ci ha messo Rosa Alberoni, perché Francesco Alberoni è famoso. Lei si è sposata con uno scrittore famoso, un sociologo. Francesco Alberoni lo conoscono tutti, ma Rosa Giannetta la conoscono in pochi. E allora lei che ha fatto? Che ha fatto lei? Lei sulla carta di identità ci ha scritto Rosa Giannetta, no? Poi a un certo punto si è sposata con Francesco Alberoni, e da quel momento lei si chiama Rosa Giannetta Alberoni, però sui libri ci mette solo Rosa Alberoni, capito? Zompa, lo zompa, lo cancella Giannetta. E il cognome di nascita lei lo cancella. Lei non deriva da nascime, allora lei cancella il vero nome di nascita, e ci mette quello del marito, benché, benché, benché fu già nel lontano 1977 che una legge del Parlamento italiano stabilì che le donne, le lavoratrici, lei è una docente universitaria, le lavoratrici non dovevano più, diciamo, nei documenti dare il nome del marito, ma è il nome della nascita. Pensate, andate a vedere, la legge del 1977, cioè le donne sposate che lavorano nella pubblica amministrazione, insomma, le donne che hanno un rapporto di impiego dipendente, si devono da chiamare col cognome di nascita, mi pare pure giusto, è una conquista del femminismo, e lei invece l'ha annullata questa conquista del femminismo, vedete? ditemi voi perché si deve chiamare Rosa Alberoni, è una che invece si chiama Rosa Giannetta Alberoni, si chiama Rosa Giannetta Alberoni, cari amici, capito? Si chiama Rosa Giannetta Alberoni, eh? Sì, sì, voi andate a vedere sui cosi, li vedete qua? Eccolo qua, scritto in piccolo, vedete? Lei si chiama Rosa Giannetta Alberoni, lo vedete? Lo vedete, cari amici? Sì, sì, ma potete pure andare a vedere su Google, è che Google è meglio dell'enciclopedia britannica, si chiama Rosa Giannetta, lei è nata Rosa Giannetta, Rosa di nome, Giannetta di cognome, poi si è sposata con il professor Francesco Alberoni e da quel momento si è sempre fatta chiamare Rosa Giannetta Alberoni, anzi, Rosa Alberoni, e lo vedete? Io ve lo dimostro qua, guardate, e questa è una trasmissione, se qualche amico mi vorrà far sapere dove è apparsa questa trasmissione televisiva, io non lo so, non lo so, non sono stato capace di deturre dove sia stata, dove sia stata trasmessa, so soltanto che un amico, un caro amico, mi ha mandato il video, mi ha mandato il video, l'amico è, l'amico, purtroppo non mi è venuto, non grifone, è una specie grifone, mi ha mandato, mi ha mandato il link, è grifone, è grifone, capito? E questo qua è il messaggio, questo qua, per questo io sono andato a vedere il video e ho visto questa che presenta il libro, ma non lo presenta col suo cognome di nascita, capito? No, lo cancella il cognome di nascita, è proprio una strategia antifeminista, cancella il suo cognome di nascita e si mette quello del marito per acchiappare Citrulli, per acchiappare Citrulli, siccome il cognome Alberoni acchiappa di più del cognome Giannetta, lei cancella il cognome Giannetta che è il cognome di nascita, si mette quello del marito e ammazza i denti e poi dice che non si discende dalle scimmie, capito? Ma come si fa? Come si fa a dire certe cose? Vedete io quando vedo sta foto, quando vedo sta foto mi viene sempre in mente quella bella poesia di Trilusa, il quale parla di un uomo, di un cristiano che va allo zoo e questo cristiano che va allo zoo si mette davanti alla gabbia delle scimmie, no? E dice, dice alla scimmia, quando te vedo, rido, rido non si sa quanto, la scimmia gli rispose, è sfido, te ne assomiglio tanto, ora ditemi voi, ditemi voi, se noi non discendiamo dalle scimmie, ditemi voi, secondo voi, dicemi, insomma, secondo voi siamo stati creati immagini e somiglianza di Dio, oppure discendiamo dalle scimmie? Secondo voi, cosa vi dice questa bellissima donna qua? Che cosa vi dice, secondo voi, che c'è ragione il creazionismo o l'evoluzionismo? Eh, io direi che per dire che l'evoluzionismo c'è ragione indipendentemente da Darwin, basterebbe guardare la foto di questa bella donna che ha cancellato il cognome di nascita, il suo cognome di nascita, ha rinnegato se stessa e per vendere più copie si è presa il cognome del marito, l'ha cancellato, guardate che spettacolo. E voi andate a vedere, cari, su Google, se si era fino a Massoni mi sta dando delle notizie sbagliate. Lei si chiama Rosa Giannetta, quando è nata si chiamava Rosa di nome e Giannetta di cognome, cioè i suoi familiari, era la famiglia Giannetta, poi lei dai e dai e dai e ridai e ridai e ridai e riuscita a farsi sposare da Francesco Beroni, ma siccome lei è nulla, è zero, allora lei per dare luce ai suoi libri ha cancellato Giannetta, il suo cognome Giannetta e si è presa quello con quello d'Alberoni, vedete questo è il libro, andate pure a comprarlo cari amici, vedete? L'uomo disse alla scimmia, quando te vedo, rido, rido, rido non si sa quanto, la scimmia gli rispose, sfido, te rassomio tanto, e questa vuole a tutti i costi che noi non discendiamo dalla scimmia, dice ma che siamo delle scimmie, ma che siamo i discendenti delle scimmie, noi? Ma ci sono da dire altre cose cari amici, ci sono da dire tante cose, ah quanto è bella con la storia, le dice predica bene e razzola male, Dio quanto predica bene, questo libro cari amici deve aver fatto la felicità del Vaticano, con tutto rispetto parlando del Vaticano, ma chissà quante copie che l'osservatore romano, che so l'avvenire, chissà quanto avranno spinto a comprarlo nella scuola questo libro, perché è lei stessa che nel video dice, il mio libro, questo mio libro, questo mio libro lo dovrebbero leggere tutti, tutti, ma andate a vedere il video, tutti lo dovrebbero leggere, dalle scuole materne, alle scuole elementari, alle scuole medie inferiori, alle scuole medie superiori, è il libro di Rosa Alberoni, non è il libro di Rosa Giannita, e questo libro qua va contro il condizionamento, contro il condizionamento dalvinistico, perché noi non discendiamo dalle scimmie, capito, noi non discendiamo dalle scimmie, capito, no, 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 e beh ma ci sono altre cose da dire però cari amici, perché io le cose le conosco bene, quello che io vi dico, voi potete andarlo a verificare, che so, su Wikipedia, su Google, digitate, Rosa Giannetta Alberoni, e IULM, IULM, I, Istituto Universitario Lingue Moderne, IULM, Istituto Universitario Lingue Moderne, sta a Milano, dello IULM, è stato per tanti anni rettore magnifico Francesco Alberoni, sì, il marito di Rosa Giannetta, anche questo lo potete digitare su Google e fare le vostre verifiche, e benché egli fosse il rettore magnifico dello IULM, sai com'è, un po' un po', nell'animo umano si nasconde sempre un po' di familismo, un po' di nepotismo, e che ha fatto, ha chiamato Rosa Giannetta, sua moglie Rosa Giannetta Alberoni, l'ha chiamata ad insegnare nella sua università, nella università di cui era rettore magnifico, sembra, se dico sembra, che le cose non fossero tutte a posto, sembra, uè, uè, chi mi vuole denunciare se lo ricordi, sto dicendo sembra, ma c'è l'articolo, ci sono gli articoli sul Corriere della Sera, c'è stata, scusate, un casino è successo pure sui quotidiani, ne hanno parlato al suo tempo, anche il Corriere della Sera, benché Francesco Alberoni sia uno dei collaboratori di maggior rinievo del Corriere della Sera, anche Eni ha dovuto parlare di quello che è successo, in pratica ci fu una rivolta del collegio, del collegio dei docenti universitari contro il rettore magnifico Francesco Alberoni, perché c'era qualcosa che non quadrava, capito? Alla fine c'è stata una rivolta, quindi i rapporti psicologici tra il rettore magnifico e la maggior parte dei docenti dello IUM si sono rotti spezzati, lei è rimasta come docente, ma dopo un po' di tempo Francesco Alberoni ha dato le dimissioni dallo IUM, lei c'è rimasta, lei si è beccata la cattedra universitaria grazie al marito rettore magnifico Francesco Alberoni e in più quando pubblica i libri lei cancella il suo cognome di nascita e vedete che ci mette soltanto il cognome del marito per acchiappare i citrulli, guarda qua che spettacolo e poi si dice che noi non discendiamo dalle scimmie cari amici, ma come di tutte le cose che vi ho detto voi fate delle belle ricerche accurate su Google e vedrete che riuscirete a trovarne gli articoli del Corriere della Sera, io ho lesso il Corriere della Sera ma ne parlò tutta la stampa italiana in cui appunto si parlò di quell'episodio di cronaca universitaria dei docenti universitari dello IUM di Milano che sollevarono gli scudi, diciamo che protestarono contro il loro rettore magnifico, il professor Francesco Alberoni perché egli aveva, come si dice, cooptato, cooptato, sua moglie dentro l'Ateneo, cooptato e si chiama, tra virgolette, il familismo si chiama, capito? Io poi non so come stavano le cose, come stavano le cose relativamente agli titoli accademici di questa signora, non lo so, fatto sta che c'è fu la protesta e se c'è stata una protesta ci saranno stati dei motivi, se non altro perché c'era la puzza del familismo, se non altro, va bene? Vabbè caro amico, vedi, ecco io sono tornato su Rosa Giannetta Alberoni, sono tornato perché a lei avevo già dedicato due video e qua confermo, devo ribadire, che una delle migliori conferme per la teoria dell'evoluzione della specie, cioè per il fatto che noi discendiamo dalle scimmie, è questa meravigliosa foto, una foto dove c'è un bellissimo libro in cui l'autrice ha cancellato il suo cognome di nascita, ha cancellato, Giannetta è il suo cognome di nascita e ci ha messo quello dal marito, ha fatto un salto all'indietro nei confronti del femminismo, non che io sia un femminista, ma lei ha fatto un salto all'indietro, un salto all'indietro non so di quanti secoli cari amici, va bene dai, va bene, io ringrazio l'amico Grifo, Grifone caro qua, purtroppo quando ho stampato il messaggio non mi è venuto bene, sì, Grifon e poi c'è un numero 980, Grifo se voi volete andare a fare le vostre verifiche cari amici, nella stampa non mi è venuto bene purtroppo, va bene? Va bene, grazie a tutti voi che mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni. Grazie. 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 Grazie.